Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, apro l'anno parlando di un film che ho visto di recente al cinema, l'ultimo film della Disney Pixar, ovvero Coco. Faccio una premessa dicendo che questo film mi è piaciuto tantissimo, lo considero davvero un altro ennesimo capolavoro della Disney Pixar, questo film di che cosa parla fondamentalmente? Parla di Miguel, che è il protagonista, che è un bambino che vive in una cittadina messicana, mi sembra quella di Santa Cecilia, e vuole fare il musicista. Ha come suo idolo Ernesto de la Cruz, che è appunto proprio il suo idolo massimo. Tuttavia cosa succede? Succede che questo ragazzino, sebbene voglia fare il musicista, è in qualche modo intracciato, intracciato dalla famiglia che assolutamente non vuole che lui faccia musica, non vuole in nessun modo che lui diventi musicista. Vogliono in tutti i modi appunto che lui segua il suo ramo familiare, ovvero che era quello di fabbricare scarpe fin da quando era nato fondamentalmente. Poi cosa succede? Succede che durante la celebrazione della festa dei morti, che poi sarebbe la nostra, quella di tutti i santi, che loro chiamano Dia de Muertos, appunto giorno dei morti, Miguel si ritroverà catapultato in questo mondo dei morti, e cercherà in tutti i modi di conoscere il suo appunto idolo, che è questo Ernesto de la Cruz, che anche lui era morto da qualche anno. E' un film bellissimo, è un film veramente bello, questa grande poesia che la Pixar ti lancia ogni volta, te entri in sala pensando di vedere un film da bambini, esci che comunque ti senti emozionato anche te che hai 19 anni, fondamentalmente per esempio. E quindi è proprio un fattore di questi grandi messaggi, che comunque ci sono sempre, il fatto di non rinunciare mai ai propri sogni, è un film proprio per i sognatori, per chi ha delle determinate passioni, e quindi una persona come me ci si può davvero tanto ritrovare in un film del genere, perché anch'io ho questa mia grande passione di fare l'attore, e ce la sto mettendo tutta, comunque ci sto provando, ho cominciato a provarci fondamentalmente, e mi rendo conto che la strada è lunga, la strada è lunga, è difficile, e magari avrà anche, anzi senza forza, avrà sicuramente le sue peripezie, le sue difficoltà, insomma, quindi ci sarà in qualche modo bisogno di affrontarle queste peripezie, non sarà sempre facile, però ci si può provare, insomma, è sempre un fattore della ricerca della felicità, la ricerca della felicità tramite le nostre passioni, tramite quello che davvero ci sentiamo e vogliamo fare. Poi, anche un discorso di idolo, lui ha questo idolo appunto, su punto di riferimento per fare musicista, e si scoprirà poi, nella storia, non sto a dirvelo ovviamente, ma si riscoprirà che, insomma, questo idolo ha un risvolto interessante, insomma, non è proprio come ce l'aspettavamo, ecco. Un film che poi celebra il Messico, e quindi questo film mi è veramente piaciuto tantissimo, consiglio a chi ancora non l'ha visto di andarlo a vedere in sala prima possibile, perché è veramente un film che merita tanto, 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 e non mi hanno pagato per dirlo, e non mi pagano per dirlo, ma è veramente una cosa che mi sento dire, anche perché, non so se l'avete notato, in quest'ultimo periodo comincerò a fare video, appunto, di quello che proprio mi piace parlare di film che vado a vedere al cinema, dei film, ora, per adesso, diciamo, ho trattato più che altro film d'animazione, però, insomma, non lo so, se a me un giorno mi viene anche di parlare di un film che ho visto di recente, che è come, ad esempio, un altro film che ho visto di Jumanji, recentemente, anche quello, secondo me, ovviamente, è un genere diverso dal primo, da quello storico del 1994, con il grande Robin Williams, ma, secondo me, anche questo, diciamo, sequel, remake, vale la pena di essere visto, perché, comunque, è davvero divertente, Jack Black e The Rock sono fantastici, e quindi, è un esempio, ora, non è che farò un video apposito di Jumanji, però, era, per dire, insomma, ne approfitto anche per ringraziarvi di tutte quelle persone fedeli, che, comunque, tutte le volte che, magari, un video lo guardano, qualsiasi video sia, di qualsiasi argomento che gli stia parlando, perché, comunque, magari, si fidano di me, o di quello che, comunque, ho da dire, e questa cosa mi fa veramente tanto piacere, quindi, io vi invito, se volete, a lasciare un mi piace a questo video, a lasciare un commento, a iscrivervi a questo canale, in descrizione vi lascio il link alla mia pagina Facebook e al mio profilo Instagram, trovate i due link in descrizione, li metto da quando ho cominciato a caricare video, ma, eh, non lo dico quasi mai, effettivamente, se vi va di aprire il Vanabox della descrizione, trovate anche questi link. E, ragazzi, che vi devo dire, quindi, andate al cinema a vedere Coco, divertitevi e, soprattutto, andate al cinema, andate tanto al cinema, perché abbiamo tanto bisogno di vedere film che ci facciano pensare, che ci facciano divertire, che ci facciano, insomma, emozionare, anche, come, appunto, Coco, che ha un finale da pelle d'oca. Bene, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!